Allora, ieri il professor Pitta ha parlato di epistolografia e retorica in Galati, oggi lo stesso discorso, retorica epistolare, epistolografia e retorica su Romani. Quando abbiamo pensato all'organizzazione della settimana abbiamo affidato a lui proprio questo aspetto relativamente alle due lettere che sono oggetto del nostro corso. Il professor Granados già ve lo ha presentato ieri, aggiungo a quello che ha detto che il professor Pitta ha pubblicato un commentario a Romani e oltre insomma a Galati, Seconda Corinti, Filippesi e non so se posso anticiparlo ma sta lavorando ad una teologia paolina che uscirà a breve. Allora, noi ascoltiamo, buona relazione. Grazie per la vostra pazienza. Allora, dal testo che vi è dato, percorriamo questa relazione tra retorica ed epistolografia in Romani, bilanci e prospettive. Lascio la lettura di questo bel testo di Aletti, The Justification, che pone in evidenza appunto questa prospettiva del distanziamento che emerge soprattutto nella lettera ai Romani. Se la lettera ai Galati è in fase di stallo, quella ai Romani è in un cantiere sempre aperto. L'immagine rende bene l'idea del dibattito in corso sulla dimensione epistolare e retorica di Romani, vista per secoli come il Vangelo più puro, Lutero, o il cristiane religionis compendium, Melantone. L'ormai noto The Romans Debate ha cercato di dimostrare la natura situazionale e condincente di Romani. Penso che sappiate tutti cos'è questo The Romans Debate, leggere la lettera ai Romani come lettera situazionale e condincente, come tutte le lettere di Paolo. Questo per chi non è addetto ai lavori. Alcuni dei partecipanti al ventiquattresimo colloquium ecumenicum paulinum, qui ce ne sono almeno due, settembre 12-17-2016, dedicato alla sezione di Romani 1-1-5-11, si noti la delimitazione, hanno proposto di intonare il De Profundis al The Romans Debate per un deciso ritorno alla prospettiva classica, ad esempio Udo Schnell. Tentativi di mediazione sono proposti da chi non considera più Romani come una trattazione atemporale, ma neanche una lettera così contingente, come sembra ad altri, ad esempio Romano Penna. Quali contributi ha recato la retorica epistolare per l'interpretazione di Romani e quali prospettive restano da approfondire su quello che è comunque considerato il vertice della teologia paolina. Circa i bilanci valuteremo lo spessore dell'oralità, le diverse proposte di disposizio, il genere più rispondente. Per le prospettive ci soffermeremo sulle relazioni tra situazione epistolare e strategia retorica, sui sistemi le figure argomentative più rilevanti, sul contributo della retorica epistolare ai contenuti della lettera. Dobbrico è una premessa sulla tenuta testuale. Riteniamo che i saluti di Romani 16 e la paraclisi finale di 16-17-20 appartengono alla redazione originaria di Romani e non ad altre lettere, come Efesini, mentre resta discussa la natura della dossologia finale, Romani 16-25-27, se paolina o post paolina. Il problema è stato affrontato qualche anno fa da Penna. Comunque, anche se fosse di mano successiva, la pericope sintetizza in modo appropriato i contenuti della lettera. Quale oralità epistolare? Paradossale la situazione epistolare di Romani e la lettera di cui conosciamo il maggior numero di persone salutate per nome e, nello stesso tempo, quella dove sembra che la situazione dei destinatari non influenzi più di tanto sui contenuti. Poiché comunque si tratta di una lettera e non di un discorso, andrebbero precisati alcuni dati epistolari spesso disattesi. Diversamente da gran parte delle lettere paoline, il prescritto di Romani non menziona i committenti. Soltanto nel poscritto sono riportati i saluti di Timoteo, di alcuni congiunti di Paolo, Gaio, che lo ospita con tutta la sua chiesa domestica, Erasto e Quarto. Molto probabilmente tale silenzio si deve all'autorevolezza che Paolo intende conferire alla lettera che sta per inviare. Si mette in gioco in prima persona per la causa dell'Evangelo. Come tutte le sue lettere, Romani è dettata da Paolo in assemblea per essere scritta. Segretario epistolare è terzio, che invia i propri saluti per i destinatari. La notizia è preziosa, poiché è l'unico segretario delle lettere paoline citato per nome. Un ruolo altrettanto importante per la mediazione di Romani è svolto da Febe, diaconessa della chiesa di Cencre. È citata all'inizio dei saluti finali. Se è raccomandata per l'accoglienza favorevole vuol dire che assume il ruolo di latrice e forse di lettrice della missiva, anche se non è possibile specificarlo. È interessante il passaggio tra l'edizione di Nestle Allende, ventisettesima e la ventottesima. Nella ventisettesima citano ancora alcuni codici che riportano la subscriptio, in cui è citata Febe, mentre nella ventottesima la escludono. Perché non appartiene ai Romani? Ma la tradizione è molto antica sulla funzione di Febe rispetto alla lettera. Secondo il prescritto, la lettera è inviata a tutti coloro che sono in Roma amati di Dio, chiamati santi. In genere, nell'adscriptio Paolo menziona la chiesa o le chiese destinatarie delle lettere. Nel nostro caso, come in Filippesi 1.1, preferisce rivolgersi a tutti i santi. In realtà, il prescritto non menziona la chiesa che è Roma, poiché diverse sono le chiese domestiche sorte nell'urbe. I saluti finali di Romani XVI citano almeno cinque chiese domestiche. Mentre ignoriamo le modalità con cui Romani fu letta in assemblea, possiamo dedurre che fu ascoltata in una o più delle domus summenzionate. L'elenco delle persone salutate ai Romani XVI è imprescindibile dal versante storico, perché riporta i nomi di alcuni credenti di origine giudaica. Questo è scuro, come Prisca e Aquila, Andronico e Giulia ed Erodione, e altri di origine gentile, anche se per diversi casi è difficile stabilire la loro origine etnico-religiosa soltanto in base all'onomastica. I contributi di Lampe e di Penna hanno opportunamente prospettato l'origine giudaica delle prime comunità cristiane di Roma. Anche se si trattasse in gran parte di gentili, questi hanno aderito al movimento cristiano mediante il giudaismo della diaspora romana, e non per altra via, come invece sembra per le comunità della Galazia. Il contesto assembleare di Romani ci conduce verso la sua oralità più peculiare, che è la diatriba. La lettera è attraversata da questo particolare stile comunicativo, che a ben vedere non è mai menzionato nei trattati di retorica né in quelli di epistolografia, e sembra attrarre le sue origini dalla pedagogia socratica. Caratteri peculiari della diatriba sono la vivacità del dialogo, la presenza di un interlocutore fittizio, in genere alla seconda persona singolare, la formulazione di domande e risposte brevi, come Meggenoitor. Nonostante siano state avanzate diverse riserve sulla restrizione della diatriba alla filosofia cirico-stoica e all'ambiente scolastico in epoca imperiale, si continua a sostenere che in origine Romani era l'insegnamento di Paolo in ambito scolastico, e di conseguenza la lettera, cito, non era una reale lettera, ma un elevato insegnamento retorico che in seguito fu destinato come lettera. Uno degli ultimi studi sulla diatriba. In tal modo signora che la diatriba di Romani fu dettata in contesto ecclesiale, non in un'aula magna, pur conservando la sua dimensione didattica, e che diatriba ed epistolografia sono congiunte, i Romani, in modo atipico. Sull'uso della diatriba, i Romani emerge una questione poco affrontata fra gli studiosi. Perché è così diffusa i Romani? Potete notare che di solito si sostiene che si deve al fatto che Paolo non conosce i destinatari della lettera. La motivazione ci sembra debole, poiché, pur se in misura minore, la diatriba ricorre anche in Prima Coreinsi e in Galadi, vale a dire per comunità fondate da Paolo in persona. In realtà la diatriba assuma la fondamentale funzione di produrre il distanziamento dalle situazioni condingenti per affrontarle a partire dalle cause più elevate e che contano più delle stesse condingenze. Secondo punto, la disposizione retorico-epistolare. Con tutta la sua originalità, quanto ad ambiezza e contenuti, dall'incomparabile profondità contenutistica, Romani è una lettera, come tutte le lettere pauline, non un discorso avvolto in una lettera. L'affermazione può sembrare scontata, ma tale non è se si confrontano alcune proposte di disposizione che tendono ad assorbire la tenuta epistolare in quella retorica. Gli esempi di due commentari recenti, i più recenti, a Romani rendono bene l'idea. Gewett definisce la pericope di Romani 117 non come prescritto, ma come exordium, che però è di tutt'altra natura. A sua volta Longnecker intitola la stessa pericope come salutation, quando si tratta di un prescritto, dove tra l'altro la salutatio occupa il posto marginale rispetto all'ampia superscripzio di Romani 116. Forse tali incongruenze si devono alla commissione indebita tra il canovaccio epistolare e retorico, per cui anche su Romani sono state avanzate diverse ipotesi di disposizione. La prima proposta è di Wulner, così stilizzata, exordium transitus confirmatio per Orazio. A parte il totale silenzio sul canovaccio epistolare, definire i personalia, le notizie personali epistolari che riguardano il mittente e i saluti finali, come per Orazio, vuol dire ignorare le peculiarità epistolari di Romani. Pochi sono stati convinti, di fatto, dalla proposta di Wulner e si è cercato di migliorare la disposizione retorica della lettera. Articolazioni più complesse sono state proposte da Jewett, Kennedy e Waterington III. Tentativi di conciliazione tra il canovaccio epistolare e retorico sono stati avanzati da Un, in occasione della seconda edizione del The Romance Debate del 91. L'autore distingue il prescritto, che delimita in 1.1.16 il poscritto epistolare e la parenesi. La parte retorica vera e propria sarebbe costituita dalla sezione protrettica, i primi quattro capitoli, da quella dimostrativa, da 5 a 8, a cui è aggiunto l'ex cursus di Romani 9.11. Prima di passare alla disposizione, indicativa è la proposta di Given del 2016, che mediante alcuni collegamenti contenutistici tra la sezione kerigmatica di 1.11 e parenetica di 12.15, ritiene l'ultima sezione come perorazio di Romani. In realtà, la sezione paracletica di Romani 12.15, come quella di Galati 5.6, trova la sua origine nell'epistolografia antica. D'altronte, secondo i trattati di retorica, requisito essenziale di una perorazio è ricapitolare quanto si è dimostrato in precedenza e suscitare il patos dei destriatari, due connotati che latitano quantomeno per la sezione di Romani 12.1.15.6. Sulle disposizioni delle diverse proposte avanzate rileviamo anzitutto le parti propriamente epistolari. Il prescritto, i ringraziamenti, il poscritto, che culmina con la dossologia finale. Romani 16.25.27. Fra queste parti limitrofe si estende il corpus epistolare di Romani 1.18.15.13, il più ampio di tutte le lettere paoline. A sua volta il corpus epistolare si articola in sezione kerigmatica e paracletica. A fungere da tesi generale della lettera è l'asserzione di Romani 1.16.17, con cui Paolo introduce l'Evangelo di cui non si vergogna e suffraga con la citazione diretta di Abacuc 2.4. Torneremo su Romani 1.16.17. Intanto rileviamo che alcune delle sezioni menzionate sono dibattute, prima fra tutte quella di 5.1.21. e questo è uno dei punti più dibattuti ancora oggi. Alcuni studiosi redazionano il capitolo a quanto precede, altri a quanto segue. Altri distinguono la pericope di Romani 5.1.11, che rapportano alla sezione precedente, da quella di 5.12.21, che collegano alla seguente. E altri ancora vedono Romani 5.1.21 come un binario di scambio tra la sezione e l'altra, secondo la plastica, bella metafora, scelta da penna. Pur preferendo la sezione di 5.8, che è a tutt'oggi la più seguita dai commentatori, ci sono ragioni valide per sostenere anche le altre ipotesi. Albert Vanois, che di semiotica strutturale se ne intendeva, raccomandava sempre di rispettare quelle diverse dalla propria. Fra le motivazioni che per noi depongono a favore della sezione 5.8, segnaliamo quelle più consistenti. Ovviamente qui il dibattito è molto aperto. La pneumatologia attraversa la sezione di 5.8, mentre compare soltanto una volta in quella precedente, in Romani 2.29. Per inverso, scarso è ricorso alle citazioni dirette o esplici della scrittura, in Romani 5.8, soltanto due. Romani 7.7b e Romani 8.36, citazioni dirette non echi o indirette. Persino nel confronto o sincrisis tra Adamo e Cristo non c'è una citazione diretta tratta dal libro della Genesi, ma vi si riscontrano soltanto alcune allusioni. Quanto ad ampiezza Romani e originale, sia per Romani originale sia la sezione che rigmatica, 1.18.11.36, sia quella paracletica, 12.15, che si estende per ben quattro capitoli. La parte tipica di una paraclesi epistolare caratterizzata da esortazioni diversificate e brevi, si trova nella prima parte della sezione Romani 12.13, mentre la seconda, 14.15, è unitaria dal versante formale e contenutistico, poiché è incentrata sull'accoglienza reciproca tra i forti e i deboli nelle comunità romane. Comunque, ancora una volta, come per Galati, ci troviamo di fronte a una disposizione retorico-epistolare che non è incasellabile in alcuno dei trattati di retorica e che declina in modo originale il canovaccio epistolare con istanze retoriche proprie, dove questa volta, a farla da padrone, è finalmente l'universale giustizia di Dio per la salvezza di chiunque crede, introdotta i Romani, 1.16.17. Terzo punto. Quale genere retorico epistolare? Come per tutte le lettere pauline a Romani sono stati attribuiti diversi generi retorici ed epistolari. Lettera epidittica o dimostrativa, deliberativa, logos protrettico o esortativo, lettera protrettica e apologetica nello stesso tempo. Non manca chi la definisce come genere misto, in cui confluiscono tutti e tre i generi, deliberativo, forense e dimostrativo, e chi invece, come Michael Walter, opta per il typos filicos, o lettera d'amicizia. A sua volta, poiché la diatriba attraversa in pratica tutta la lettera, Thomas Tobin propone di definirla come lettera diatribica, e Fitzmaier pensa a una lettera saggia. Infine, Jewett la considera epidittica dal versante retorico, diplomatica o ambasciatoria da quello epistolare. Dalla sintesi del dibattito in atto si comprende quanto sia difficile ingabbiare i Romani in un genere contemplato nei trattati di retorica e nei tipi epistolari. Di fatto alcune sezioni sono più vicine al genere forense, di specie categorica o accusatoria, come quella di Romani 1, 18, 320, mentre altre parti sembrano più orientate verso il genere dimostrativo e epidittico, come 5, 8. Altre sezioni, come l'esortazione rivolta ai forti e ai deboli, tendono verso il genere deliberativo, accoglieti gli uni gli altri. Per questo, neanche ipotizzando la compresenza dei tre generi retorici, è possibile coprire l'organico di Romani. La coperta è troppo stretta per avvolgere l'intera lettera. D'altro canto, come abbiamo già osservato per Galati, la parte esortativa di Romani 12-13 trae la sua origine dalla paraclesi epistolari e non dalla retorica. Per questo riteniamo che sia più opportuno non applicare alcuno dei generi citati a una lettera così articolata. Il fatto è che Romani è troppo ampia per essere vista soltanto come lettera privata o familiare o amicale, contro Volter, ed è troppo ecclesiale per essere lettera diplomatica o quasi ufficiale. A causa di una delle situazioni epistolari che l'hanno ingenerata, sostituire il desiderio di Paolo di raggiungere le comunità domestiche di Roma per spiegare il suo Evangelo, forse ci troviamo di nuovo di fronte a un genere atipico che declina la lettera con l'Evangelo, con tutto quanto di nuovo implica tale congiungimento. Di fatto, Galati e Romani sono le uniche lettere che introducono nelle tesi principali l'Evangelion, Galati 1-11-12, Romani 1-16-17. Tuttavia, questa volta il congiungimento tra lettera e Evangelo è diverso, è più complesso per forma e contenuti. Per la forma, perché retorica di epistolografia i Romani sono meno amalgamate che in Galati. Per contenuti, perché all'Evangelo incentrato sulla figliolanza divina subentra quello sulla giustizia divina per la salvezza di chiunque crede. La partita di Romani si decide tra l'universalità salvifica della giustizia divina per chiunque e la particolarità funzionale del giudeo rispetto al gentile. Su tale nuova e originale congiuntura tra lettera ed Evangelo rimane aperta una delle questioni più difficili da risolvere. Se la tesi principale della lettera riguarda l'Evangelo, per cui può essere considerata come lettera kerigmatica, questo è uno degli ultimi contributi di Bosenius in Novum Testamentum del 2015. Perché mai Paolo, che ha considerato punto d'onore evangelizzare dove Cristo non è ancora nominato, invia la lettera più ampia per evangelizzare coloro che sono stati già evangelizzati da altri? In altri termini, sono sufficienti le motivazioni dichiarate nel prescritto e nel proscritto perché il corpus epistolare sia così ampio e complesso. Se avesse voluto inviare la lettera soltanto per farsi raccomandare presso la Chiesa di Gerusalemme o essere aiutato in futuro a evangelizzare la Spagna, ipotesi già fatte, forse Romani avrebbe occupato più o meno lo spazio della lettera a Filemone. Per questo neanche l'esigenza ad esporre soltanto l'Evangelo per via epistolare copre tutte le istanze che hanno motivato la lettera. E andiamo al quarto punto, situazione epistolare e strategia retorica. Forse una delle maggiori pecche del The Romans Debate è ignorare il netto gap creato da Paolo stesso tra il corpus epistolare e le parti circostanti. Come si può introdurre l'Evangelo il cui contenuto fondamentale è la portata salvifica della giustizia divina per chiunque crede e porlo in marcato contrasto con la rivelazione della collera divina? Sarebbe stato più logico e chiaro collegare direttamente la tesi generale di Romani 1.16.17 alla rivelazione della giustizia divina realizzata mediante la fede di in Cristo o a proposito della fede di in Cristo io sono pienamente d'accordo con Romano Penna, genitivo oggettivo. Se Paolo opta per la strategia inversa alle sue buone ragioni su cui torneremo, intanto è necessario distinguere la situazione epistolare dalla strategia retorica posta in atto nel corso della lettera. La situazione epistolare comprende i personalia che riguardano il mittente e i destinatari. Attenzione alla situazione epistolare. Mentre la strategia retorica si riferisce alle finalità persuasive dei contenuti. Ora nella sezione introduttiva di Romani 1.17 situazione epistolare e strategia retorica sono inscindibili. Se il prescritto di Romani 1.17 ho consultato quanto i più prescritti possibili è il più ampio di tutti i prescritti epistolari antichi è perché nella superscrizio di Romani 1.16 Paolo inserisce la tematica generale della lettera. Ecco la tematica generale. L'Evangelo preannunciato da Dio nelle scritture sante che riguarda il figlio suo segue il frammento pre-paulino di Romani 1.3b.4a mutuato dalla tradizione pre-paulina che Paolo include come parte integrante del suo Evangelo. Altrettanto inseparabile la relazione tra situazione epistolare e strategia retorica nei ringraziamenti che riproducono la captatio benevolentia il motivo del ricordo per i destinatari omneia motiv il contenuto della preghiera l'Evangelo di Dio che riguarda il figlio suo introdotto nel prescritto e ribadito nei ringraziamenti approda nella tesi generale di Romani 1.16.17 dove Evangelo e scrittura confluiscono. La situazione epistolare e la strategia retorica sono di nuovo congiunte nel poscritto di Romani 15.14.17 dove l'Evangelo di Dio genitivo soggettivo è relazionato all'Evangelo di Cristo genitivo oggettivo e domina nella parte conclusiva della lettera come abbiamo segnalato nell'introduzione di battuta la natura e la funzione della dossologia finale. Comunque è nuovamente l'Evangelo a occupare la scena principale il mio Evangelo secondo la predicazione di Gesù Cristo. Fra le parti limitrofe si articola il corpus di Romani 1.18.15.13 con la sezione kerigmatica e quella paraecletica. Nella prima sezione la strategia retorica assume un decisivo sopravvento sulla situazione epistolare tranne che per sporadiche affermazioni. Tra le asserzazioni che rinviano alla situazione epistolare e dunque storica includiamo l'allusione al mio Evangelo, l'importante diffamazione di Romani 3.8 Penna ha scritto tanto su questo, l'allusione al modello di insegnamento ricevuto dai destinatari, la conoscenza che essi hanno della legge mosaica, parlo a gente che conosce la legge, e l'interpellanza rivosta ai gentili delle comunità romane. Romani 10.13. Con la sezione paracletica la situazione epistolare si congiunge nuovamente alla strategia retorica. Ho sbagliato, Romani 11.13. Chiedo scusa. Con la sezione paracletica la situazione epistolare si congiunge nuovamente alla strategia retorica. La prima parte contiene esortazioni diversificate, mentre la seconda è rivolta ai forti e ai deboli delle comunità romane, dunque la prima parte è funzionale alla seconda e non il contrario. L'abbondante bibliografia è sufficiente per evidenziare le difficoltà esegetiche che suscita Romani 14.15. Altrove ho cercato di dimostrare che le polemiche tra i forti e i deboli sono reali, non teoriche né semplicemente preventive, ma anche su questo il dibattito è molto aperto. Anche autori come Aletti che consigliano la massima prudenza nel ricostruire il retrosterra storico di Romani 14.15 riconoscono che si tratta di una situazione reale e che Paolo assume una posizione di distanziamento per applicare la strategia retorica a qualsiasi situazione analoga nelle prime comunità cristiane. A lettere cupitali Penna definisce concreto e non ipotetico né preventivo il caso dei forti e i deboli presso le comunità romane. Pertanto una prospettiva meritevole d'approfondimento, è aperto il dibattito qui, riguarda la relazione tra situazione epistolare e strategia retorica, giacché anche i Romani sono congiunte. Tuttavia ora tale confluenza è meno intensa che per Galati, sia perché Paolo non conosce tutti i destinatari della lettera, sia perché mediante la diatriba assume con loro una strategia di distanziamento per non lasciarsi irritire dalla situazione epistolare che affronta. Sistemi, figure argomentative e messaggio. Per convincere i destinatari che non ha di che vergognarsi dell'Evangelo, Paolo ricorre a diversi sistemi argomentativi che percorrono la lettera. L'Incipit di Romani 1.1.2 precisa subito che per la corrispondenza tra l'Evangelo di Dio e le scritture sante il sistema argomentativo principale verte sull'autorità esterna e indiscussa della scrittura. Per questo le citazioni dirette e indirette, le allusioni, gli echi della scrittura sono disseminati nella lettera, dal prescritto alla dossologia finale di Romani 16.24.27. La catena delle citazioni bibliche, la Gezzera Shavà, il Calvachomer, il Kelal della legge, dimostrano la maestria di Paolo nel servizio della scrittura per dare corpo al suo Evangelo. Da approfondire è il rapporto tra questa regola di cui ci ha parlato Pasquale nella sua relazione, è Romani 14.15, dove si parla di cibo puro e di cibo impuro. Il filo conduttore delle citazioni e dei sistemi argomentativi della scrittura è tenuto dal passo di Abacoc 2.4, riportato nella proposizione generale di Romani 1.16.17. Dunque le diverse forme di citazioni e sistemi interpretativi dipendono da Abacoc 2.4 e attraversano la sezione cherigmatica e quella parecletica. Opportune sarebbero quantomeno tre precisazioni sull'autorità esterna della scrittura o a tecnica in Romani. I diversi sistemi interpretativi segnalati non sono parti di omelie sinagogali dettati in precedenza da Paolo, questa era una vecchia teoria di Scroggs, poi ripresa da Sanders. Ne appartengono a fondi previe di cui si sarebbe servito per impastire la lettera. Le due ipotesi non trovano riscontri. Piuttosto tali sistemi sono espressioni della sua genialità, capace com'è di adattare la scrittura alle situazioni che affronta. Non dovremmo sottovalutare che Paolo è l'unico fariseo del primo secolo di cui si sono pervenuti gli scritti autobiografici e che c'è l'inadattabilità e non il rigidismo sulla legge. Attenzione all'autobiografia di Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe dice solo che ha partecipato per un periodo alla formazione farisaica, poi è andato a finire con Banno, mentre Paolo, secondo gli atti, è fariseo anche dopo l'incontro con Cristo. Inoltre, soprattutto per Romani, Paolo non conosce un canone nel canone, che non durrebbe a escludere una parte della scrittura a favore di un'altra, ma come è precisa per i forti e deboli le cose che sono state prescritte, infatti sono state scritte per il nostro insegnamento, affinché mediante la perseveranza della fede e del conforto delle cose scritte abbiamo la speranza. Romani 15,4. Nonostante la notevole attenzione, inoltre, conferita negli ultimi anni alla intertestualità, da Ace fino a Watson, non sono i contesti originali. E questo è un tema molto da dibattere, delle citazioni ad assumere la preminenza, ma quelli di approdo delle situazioni epistolari che affronta. Romani abbonda di figure argomentative, ma purtroppo, come abbiamo rilevato per Galati, con i secoli, si è dileguato il rapporto tra figure retoriche e contenute. Dalla litote di Romani 1,16, che è la figura principale, fluisce un fiume di figure, finalizzato ad illuminare i densi contenuti della lettera. Volta in positivo, Paolo intende dimostrare per tutta la lettera che non si vergogna, bensì si vanta dell'Evangelo. Una maggiore attenzione verso la natura di questa litote eviterebbe i tanti fraintentimenti sulla funzione della sezione dedicata alla rivelazione della collera divina. A più riprese, Aletti ha dimostrato che la rivelazione della collera divina serve non per dimostrare che tutti hanno peccato, ma per escludere qualsiasi motivo di vanto umano, soprattutto del giudeo, che può confondere l'eccezionalità, io preferirei il termine il vantaggio con il vanto, perché si parla di vantaggio ai Romani 3,1. Tra le principali figure che veicolano i contenuti della lettera segnaliamo due molto importanti, l'ossimoro e l'antanaclasi, o l'antanaclasi, dipende da come lo si voglia pronunciare. Anche per Galati abbiamo rilevato l'importanza dell'ossimoro, se ricordate ieri, in quanto veicolo del paradosso. Tuttavia in Romani l'ossimoro assume nello stesso tempo un peso strutturale e non soltanto le scale. L'ossimoro è strutturale quando da una parte il vanto è escluso per la sezione di Romani 1,18,4,25 per motivare l'universalità, l'universale gratuità della giustizia e dall'altra è affermato per dimostrare la condizione giustificata dei credenti in vista della partecipazione alla speranza della gloria, come è grosso questo ossimoro. L'ossimoro è anche linguistico, come per la sendung formel, la formula d'invio del figlio di Dio in Romani 8,3. A rigore di logica, chi si contamina della carne del peccato non può essere in alcun modo essere liberato, né tantomeno è condizione di redimere gli altri dal peccato nella carne. Invece questo è stato possibile per il figlio che Dio ha mandato in una assimilazione, non simile, assimilazione totale della carne del peccato. L'ossimoro di Romani 8,3 che tra l'altro è un anacoluto, tal è l'impatto dell'oralità sullo scritto. Percorre tutta la sezione di Romani 8,1-30 e sfocia nella perorazio di Romani 8,31-39, il bel contributo di Andrea Genus. La perorazio è introdotta dall'eco di Genesi 22,12-16 e della achedà di Isacco, i Romani 8,32, nella prospettiva setoriologica, rilevante la funzione dell'ossimoro strutturale e linguistico in Romani. Veicola i contenuti, ecco il contenuto, i contenuti della soteriologia. Se all'inizio della sezione è dedicata alla fedeltà della parola di Dio, non tutto Israele è Israele, alla fine tutto Israele sarà salvato, che enorme, stupendo ossimoro, non solo quello eletto, ma anche quello etnico. L'antanaclasi è una tipica figura di parola, che Paolo utilizza più in Romani che altrove, in quanto figura di ripercussione verbale, l'antanaclasi è una ripercussione verbale di una parola, è usata soprattutto in Romani 2,14, è stato richiamato da Romano prima, Romani 3,21, 7,23,25, 8,2. Non è fortuito, ecco il contenuto dell'antanaclasi, che questa figura, che i passi citati siano accomunati dalla complessa questione del nomos. Usa l'antanaclasi quanto si tratta del nomos, per cui le diverse accezioni del termine non si devono alla presenza o meno dell'articolo, Paolo sull'articolo è proprio fuori regola che lo precede, bensì dalla ripercussione del termine nello stesso contesto. Vediamo l'esempio più bello, quello di Romani 7,7,25. Romani ha dedicato la sua monografia, tra l'altro, a questa figura, è emblematico. La pericope inizia con l'immediato rifiuto se la legge sia peccato, lettera maiuscola, legge, e si chiude con l'antanaclasi di rara bellezza. Con la sua mente, l'ego, serve la legge di Dio, maiuscolo, ma con la sua carne, la legge o il principio normativo del peccato, legge minuscolo. Qualora fosse necessario precisarlo, l'oralità permette di riconoscere in modo immediato le differenze tra il nomos in quanto legge mosaica o per ripercussione come principio normativo. Da questo punto di vista è da condividere appieno quanto precisava Fitzmaier, ricordiamo questo grande studioso, da poco ci ha lasciato, che ha scritto un bellissimo commentario a Romani. Romance was meant to be read aloud more as a formal lecture than as literary essay letter. Pertanto sistemi e figure argomentative sono particolarmente rilevanti per Romani. Credo che a tutt'oggi, questo è un ambito di ricerca molto importante, a tutt'oggi manchi un subsidium biblicum completo su questi due ambiti che attraversano le lettere paoline e soprattutto sulla loro funzione dal versante contenutistico, già che forma e contenuto coincidono nel caso di Paolo. Per cercare le figure dobbiamo sempre andare al Bollinger oppure all'appendice del Blast Brunner. Disposizione e messaggio. Quo vadit? Dove va a finire una retorica paolina che rischia di cadere in forma d'arbitrio incontrollato. L'interrogativo posto da Lampe qualche anno fa è cruciale, poiché ne va di mezzo la teologia paolina. Sopra abbiamo segnalato diversi esempi di contributi che confondono il canovaccio epistolare con quello retorico, quasi sempre a discapito del primo. Ho cercato di rispondere alla provocazione di Lampe, chiedendo di prendere sul serio i criteri proposti da Aletti per identificare la proposizione principale e quelle subordinate. Tali criteri sono dedotti anzitutto dall'uso che ne fa Paolo e quindi dai consigli dei trattati di retorica antica. Se con largo consenso ormai si è riconosciuto che la proposizione di Romani 1, 16 e 17 è la tesi generale verso cui approdano il prescritto ai ringraziamenti epistolari è perché è chiara, breve, completa, innesta le dimostrazioni successive e tra l'altro contiene la citazione più importante della scrittura per Romani. Una nuova proposizione, questo è un secondo largo consenso tra gli studiosi e non solo, è situata all'inizio della sezione paracletica di Romani 12, 1, 15. Il passo di Romani 12, 1, 2 assume il motivo della misericordia divina con cui si è chiusa la sezione kerigmatica e lo rilancia per la dimensione etica della vita dei credenti sino ad approdare nel bellissimo florilegio che chiude la sezione dove domina la ghezza e la shavà. Cristo divenne servo della circoncisione per la verità di Dio e i gentili rendono gloria a Dio per la sua misericordia. Com'è bella questa ripresa della proposizio di Romani 12, 1, in Romani 15, 7, 13. Senza i criteri segnalati per identificare le proposizioni generali, principali e secondarie, si cade nella deriva delle contraddizioni con cui Galati e Romani sono stati interpretati da studiosi come Resenen e Kula. Ritengo che le proposizioni principali e secondarie siano imprescindibili per Romani e per le altre tre grandi lettere, le altre outbrief di Paolo, poiché permettono di tenere fermo il timone delle articolate dimostrazioni che generano e le loro finalità persuasive. Tuttavia, anche su tale questione sono opportune due precisazioni che gli studiosi di retorica ben conoscono. Sarebbe bene non eccedere nella identificazione delle proposizioni, ma limitarsi a quelle necessarie, come raccomandava il buon Quintiliano. E non dovremmo dimenticare che Paolo ha un difetto che depone non a favore, ma contro un suo curriculum retorico classico. Manca di safeneia, vale a dire di chiarezza o di prespicuità nello stile. Lo riconosce l'autore della seconda Pietri quando ricorda che alcuni contenuti delle sue lettere sono difficili da intendere e per questo sono strumentalizzati, seconda Pietri 3.16. Gli fa eco l'apocrifa lettera 7, indirizzata da Seneca Paolo, quando mentre riconosce la sublimità dei contenuti nelle sue lettere, lo esorta a migliorare nella chiarezza dello stile. Sufficiente, questo è importante per la retorica, sufficiente confrontare le lettere autoriali o autografi con i discorsi di Paolo in atti, non mi sono messo d'accordo con Penna, per rendersi conto della differenza tra le due modalità di comunicazione retorica. Nelle prime risalta la brachilogia e la complessità, nelle secondi, la limpidezza nella forma e nei contenuti. Dunque la proposizione generale di Romani 1.16.17 colloca al centro della strategia persuasiva della lettera l'Evangelo che nella giustizia divina universale per la salvezza di chiunque crede riscontra il filo conduttore. Le tesi secondarie successive dovrebbero essere collegate a livello linguistico e sistemico a Romani 1.16.17 per approfondirne i contenuti. Da essa dipendono e a essa rinviano. Consequenziale riconoscere che non c'è una dimostrazione successiva che assume preminenza sulle altre, come invece sostiene ad esempio Campbell. L'autore considera la sezione di Romani 5.8 come principale rispetto a quelle secondarie di Romani 1.4 e 9.11, dando origine alla cosiddetta PPME, Prematologically Participatory Martyrological Eschatology. Piuttosto l'evaluosi delle proposizioni principali e secondarie dimostra che le tre dimostrazioni che compongono la sezione carigmatica contribuiscono in modo diverso a sviluppare e approfondire i contenuti enunciati nel tema di Romani 1.2.4 e nella tesi generale di Romani 1.16.17. Proprio la congiuntura tra il tema generale della lettera e la tesi generale permette di rilevare le principali funzionalità che si verificano nelle dimostrazioni successive. La sezione sulla collera è funzionale a quella della giustizia per grazia e non il contrario. Invece nella seconda parte tutte le fasi successive fruiscono dalla pericope di Romani 5.1.11, ricordo la relazione di Barclay, dove campeggia il vanto del credente per la giustificazione in Cristo e l'accesso alla grazia nella quale restiamo saldi in vista della speranza. Una maggiore attenzione per tale disposizione eviterebbe l'alternativa tra i due crateri principali della teologia paulina, tra quello della giustificazione riproposta dall'uteranesimo classico e quello della partecipazione sostenuto dalla Nui Perspective. Infine, centrale è nella sezione di Romani 9.11 che Cristo sia il fine della legge, verso cui tende la fedeltà di Dio alla sua parola e al suo popolo. Si comprende bene che i Romani, come d'altro canto, in tutte le altre sue lettere, Paolo non usa sempre lo stesso sistema argomentativo, ma lo modifica ogni volta con grande genialità. Quanto abbiamo rilevato per la PPMI e la Nui Perspective dovrebbe valere per chi? Poiché tende a incasellare i Romani in un discorso protrettico, come Ohn e l'ultimo commentario di Longnecker, sottovaluta le sezioni di Romani 1.4, sopravvaluta la sezione di Romani 1.4 e 5.8 a discapito di Romani 9.11, ridotta a un escursus di appendice. Vedete com'è? Quando ci sono pregiudizi così forti cosa ne viene fuori. In tal modo la parte della lettera in cui il pathos di Paolo emerge con maggiore intensità, Romani 9.1.5, 10.1.2, 11.1, sarebbe paradossalmente ridotta a un insegnamento secondario. In realtà le tre dimostrazioni che scaturiscono da Romani 1.16.17 contribuiscono, con sistemi argomentativi diversi, a dispiegare quella che Lione denominava nel suo classico la storia della salvezza nella lettera ai Romani. Conclusioni? Ho ancora qualche minuto? Traiamo le fila dal percorso che abbiamo compiuto. La prospettiva innestata dal The Romans Debate non è da scartare del tutto, anche se andrebbe in gran parte ridimensionata, come d'altro canto, la New Perspective. Abbiamo potuto rilevare che Romani conserva una oralità atipica, una oralità prodotta dalla diatriba, che permette a Paolo e destinatari di operare un opportuno distanziamento della situazione epistolare, così da risalire alle motivazioni decisive per cui l'Evangelo è potenza divina per la giustizia salvifica di chiunque crede. Ed è proprio tale distanziamento che permette a Paolo di rispondere in modo indiretto alla situazione epistolare dei destinatari di Romani e alle altre comunità cristiane e delle altre comunità cristiane. Per questo Romani è di un'attualità permanente che non scolora di fronte ai cambiamenti e agli sviluppi ecclesiali successivi. Tutt'altro. A Romani non è adattabile alcuna delle disposizioni spreviste dai trattati di retorica antica, ma procede con originalità. Originali sono tutte le parti che la compongono. Troppo ampia per essere lettera familiare e troppo ecclesiale per essere quasi ufficiale. Romani e con Galati la lettera di Paolo che declina in modo originale Evangelo è lettera, la loro sororità di cui abbiamo sentito ieri. E poiché il genere retorico scaturisce dal congiungimento tra canovaccio epistolare e retorico, anche il genere di Romani è atipico, è lettera cherigmatica, come Galati, perché anticipa la presenza di Paolo presse le chiese domestiche romane. Nella sua complessa articolazione abbiamo distinto la situazione epistolare dalla strategia retorica. La prima predomina nelle parti limitrofe, mentre la seconda è diffusa in quelle del corpus epistolare. Tale diversità permette a Paolo e ai destinatari di assumere il necessario distanziamento dalla situazione epistolare e di focalizzare l'attenzione sulle motivazioni ultime, che non lasciandosi insabbiare dalle situazioni, le modificano. Per convincere i destinatari sulla bontà del suo Evangelo, Paolo ricorre a diversi sistemi argomentativi, fa cui predominano l'autorità della scrittura e la diatriba. La prima è autorità indiscussa, che accomuna Paolo ai destinatari che già conoscono la legge. La seconda innalza il livello retorico in forma dialogica. Entrambi i sistemi danno corpo all'Evangelo, di cui Paolo non si vergogna. Altrettanto diffuse sono le figure argomentative ai romani. Abbiamo scelto quelle che ci sembrano più decisive per i contenuti. L'ossimoro, che serve a sottolineare il paradosso della salvezza, e l'antanaclasi, che permette di negare alla legge mosaica qualsiasi concorso per la giustificazione, che si realizza soltanto per la fede in Cristo. La retorica epistolare non appartiene all'ornato o all'apparato, ma è veicolo imprescindibile per la trasmissione dei contenuti di romani. L'uso della proposizione generale e di quelle secondarie dimostra che l'universale giustificazione per la fede costituisce il centro propulsivo di romani. Le proposizioni secondarie suffragano e sviluppano quella generale, sia per la sezione carigmatica, sia per la paraclesi epistolare. Per questo non c'è una dimostrazione come quella di Romani 5 e 8, che predomina sulle altre, ma tutte nella sezione carigmatica contribuiscono a spiegare la portata salvifica della giustificazione per la fede. Bella questa conclusione di onore a uno dei più grandi studiosi della lettera ai romani nel secolo scorso, Lione. Quando le ipotesi di retorica epistolare sono ben fondate, trovano corrispondenza nei commenti di chi ha approfondito romani prima e meglio di noi. Per determinare con più sicurezza il senso dell'espressione giustizia di Dio e Romani 1,17, sembra opportuno partire da Romani 3,21, vale a dire dal passo che è certamente parallelo a Romani 1,17 e perciò può servirlo a spiegarlo, per servire a spiegarlo, Lione. Vi ringrazio.